Grazie Presidente, siamo qui oggi chiamati a pronunciarci sull'insindacabilità nei confronti del sottosegretario Morelli all'epoca dei fatti deputato. Vede Presidente, l'articolo 68 della Costituzione al primo comma prevede la cosiddetta insindacabilità parlamentare, che è una sorta di tutela per le nostre espressioni, le nostre azioni. Tutto sta però a capire, perché qui c'è un perimetro circoscritto, a capire se le dichiarazioni, se le nostre azioni rientrano all'interno di quel perimetro, quindi si può parlare di insindacabilità parlamentare o meno. Quindi arriviamo ai fatti. C'è un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Milano a seguito di due querele esporte dal sindaco Sala nei confronti del sottosegretario Morelli, ripeto, all'epoca dei fatti deputato. Perché dobbiamo capire se le dichiarazioni che sono state rese tramite social, tramite Facebook dal deputato Morelli datate 2019-2021 sono intimamente collegate e connesse con un atto di sindacato ispettivo, un atto parlamentare che possa giustificare quindi l'insindacabilità o meno. Andiamo al primo caso. Nel primo caso, nella dichiarazione rilasciata tramite Facebook nel 2019, vi è un atto ispettivo a firma del sottosegretario Morelli, dove si limita a evidenziare quella che è l'inopportunità politica dell'ingresso del governo saudita all'interno del Consiglio di amministrazione del teatro della Scala di Milano. Nella dichiarazione successiva tramite Facebook però viene sottolineata la mancanza di trasparenza dell'operazione e che il sindaco Sala avesse commesso illeciti nel portare avanti tale progetto. Quindi mi sembrano due cose che non camminano insieme e per questo noi siamo contrari alla insindacabilità in questa prima fattispecie. Passiamo alla seconda. Nelle dichiarazioni rese, sempre tramite Facebook, sempre dal sottosegretario Morelli, nel 2021, dove il sottosegretario Morelli fa menzione del nuovo capo dei vigili urbani di Milano. Bene, sapete, non c'è nessun atto di sindacato ispettivo, nessun atto parlamentare, a firma del sottosegretario Morelli. E che cosa fa il relatore con un'arrampicata sugli specchi, con una forzatura inaudita? Dice, vabbè, visto che non abbiamo il sindacato ispettivo che può giustificare l'insindacabilità, ci colleghiamo al sindacato ispettivo fatto da un suo collega, dal collega Iezzi. Cioè, chiamando così in causa, invocando un'insindacabilità di gruppo, un'immunità di gruppo, un'immunità di greggio, chiamatela come volete, un qualcosa che non sussiste, perché la giurisprudenza ci dice che l'insindacabilità non può essere di gruppo, cioè ognuno risponde per le proprie dichiarazioni. Quindi anche a queste dichiarazioni, quindi anche a questa seconda fattispecie, noi saremmo contrari a concedere l'insindacabilità. Perché, Presidente, qua si vuol far passare questo messaggio. Io, in quanto parlamentare, posso fare le dichiarazioni che ritengo, posso esercitare le azioni, però per i cittadini vi è un trattamento differente. Perché io mi appello all'insindacabilità anche quando non c'è, ma per i cittadini abbiamo un trattamento differente, un trattamento che queste disparità, il Movimento 5 Stelle, non ha mai sopportato. E proprio per questo, perché ci siamo noi qui dentro che vigiliamo su tutti questi meccanismi che ci sono, noi siamo fortemente contrari oggi a tutte e due le fattispecie di insindacabilità che vengono richieste dal relatore. Per cui confermo il voto contrario del Movimento 5 Stelle. Grazie.